Bene amici di La Salutech World, video che sto girando in Full HD con lo Zenfone Max Facciamo un attimino di zoom per vedere appunto la bontà del video su questo cassonetto Andiamo a vedere un attimino com'è la resa del video, vediamo anche questa macchina in movimento Ci giriamo, andiamo a vedere un attimino qui come registra i video Andiamo un attimino un po' più lente, adesso andiamo un po' veloci, facciamo pan veloce E vediamo anche come funziona la stabilizzazione del video Sto camminando, sto rientrando a casa Adesso vi faccio anche un primo piano su delle piante, così potete vedere anche appunto la bontà del sensore Ricordo che gli fps sono 30 e appunto il video è 1920x1080 Questa è una pianta, andiamo a vedere come reagisce alle macro sul video Vediamo di qui, niente, facciamo un tap focus Ritorniamo Fa un po' fatica nella messa a fuoco, nel riprendere tra macro e paesaggio Ritorniamo qui Se ritappo chiaramente rimette a fuoco Andiamo a fare un altro amaco, vediamo se riesce a mettere a fuoco Niente, proviamo un tap Comunque a display non è assolutamente niente male, la qualità video è davvero buona Ho fatto un altro tap focus perché ho notato che non riesce a mettere a fuoco in maniera automatica Ci riproviamo Magari stiamo un attimo più indietro, vediamo se No, niente, non ce la fa Va bene dai, per questo video è tutto Ciao dalle Santa Cuorda Ciao